hai voglia di pizza ma i tempi d'attesa ti snervano? bene andiamo a preparare delle pizzette morbidissime con 250 g di farina circa 250 g di yogurt greco una mozzarella lievito istantaneo per torte salate sale origano e sugo quanto basta il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info come hai visto queste pizzette o focaccine si preparano in pochissimi minuti si possono preparare in anticipo per poi essere riscaldate possono essere servite ad un buffet o per un aperitivo e ovviamente si possono condire come si vuole con ad esempio fustel prosciutto acciughe olive eccetera ma vediamo le mie impressioni a caldo nel momento dell'assaggio ti dico solo che stavo sbavando sarà perché amo la pizza mamma mia che cosa è non te lo posso dire proprio sono la fin del mondo morbidissimo assaggiamo anche la focaccina che dire se non eccezionale mi raccomando se le provi mandami la foto in direct su instagram mi trovi con il nome di irex fornelli e se la ricetta ti è piaciuta e ti ho fatto venire fame iscriviti attivando la campanellina tutte regalami un like e condividilo sui tuoi social grazie a tutti